Ben ritrovati a tutti quanti Questa settimana ormai siamo in prossimità delle vacanze, insomma vacanze natalizie, delle festività insomma che tendenzialmente come ogni anno indicano sui mercati, i mercati le vivono naturalmente con una minore liquidità e quindi ecco posizioni di lunghissimo periodo magari eventualmente evitiamo di prenderle naturalmente chi ha delle posizioni magari già in gain porti il target, il take profit magari a livelli più vicini e soprattutto lo stop loss magari se è già entrato e è già in guadagno magari lo porti in parità in modo da non rischiare. Mancanza di liquidità potrebbe significare insomma volatilità un po' più estesa quindi magari dei movimenti sul, ad esempio stiamo guardando l'oro in questo momento naturalmente, dei movimenti un po' più accentuati quindi magari la zona dei 1820 dollari per oncia più o meno vicino ai massimi della scorsa settimana e i minimi a 1765 quindi insomma un bel divario di prezzo circa una cinquantina di dollari all'oncia di differenza. Quindi grande la volatilità che potrebbe esserci anche perché naturalmente l'oro sta cercando di trovare una giusta collocazione. Abbiamo visto come la cosa più importante e la segnaliamo in questo caso qui sia stata l'uscita appunto dal canale di lungo periodo ribassista. Quindi la cosa importante l'avevamo ancora segnalata in precedenza sembrerebbe l'oro voler cercare di fare un pullback proprio su questa o meglio diciamo che l'ha fatto. Il problema grosso consiste nella media mobile a 200 periodi che transita proprio lì e l'incrocio ribassista della media a 21 periodi che lo vedete ecco questa qui in azzurro. Questo è in azzurro quindi eccole diciamo che non ci sono motivazioni né per in qualche modo gioire di quello che potrebbero essere i movimenti al di sopra della media mobile a 200 né tantomeno insomma o meglio in vicinanza in concomitanza con la media a 200 periodi e soprattutto la cosa importante appunto il diciamo l'uscita dal canale di lungo periodo iniziato lo scorso settembre dello scorso anno 2020 dopo i massimi l'agosto dei massimi dello scorso anno 2000 e oltre 2060 dollari per oncia. Ecco questa è una indicazione un'altra diciamo indicazione da porre molta attenzione che sembrerebbe diciamo paventarsi un testa e spalle ancora ribassista. Tuttavia naturalmente come abbiamo detto anche in altre occasioni attenzione perché appunto il livello d'ingresso sarebbe stato questo qui però attenzione che proprio lo vediamo insomma questa ombra diciamo questa ombra della candela rialzista tendenzialmente ha fatto rimbalzare con grande forza proprio per la motivazione che ci troviamo in concomitanza di un supporto estremamente importante. Tutto rimane nell'aria tassi di interesse in attesa per il prossimo anno Federal Reserve addirittura si pensa da 3 a 4 tassi di interesse la Federal Reserve che si ipotizza non voler non volersi mettere davanti alla curva dell'inflazione quindi inflazione in crescita tassi ancora inferiori al livello di inflazione quindi vuol dire tassi reali negativi. Questo sarebbe un ambiente piuttosto favorevole per quanto riguarda loro che tuttavia diciamo non riesce a trovare la sua collocazione. In questo periodo eventualmente potremmo vedere delle variazioni a meno che appunto non ci siano delle novità, delle news insomma in qualche modo dal punto di vista macroeconomico e geopolitico. Ecco questo potrebbe diciamo al momento ci aspettiamo che rimanga intorno alla zona dei 1800 dollari dove c'è appunto la transita, la media mobile a 200 periodi. Quindi ecco questa zona di lavoro qui due 1830, 1760 questi sono i due livelli in questo momento chiave man mano in discesa 1759, 1756. Ecco questo è quanto possiamo dire per il prossimo anno naturalmente ipotizziamo che l'oro potrebbe finalmente trovare una sua collocazione rialzista nei mercati quindi prezzi medi eventualmente in crescita. Naturalmente dobbiamo sempre ragionare anche dal punto di vista tecnico quindi attendiamo le conferme ovvero in questo caso almeno una rottura di un livello di resistenza 1830 poi man mano eventualmente per chi vuole prendere posizioni lunghe incrementare il breakout 1870-1900. Quindi diciamo ecco questa sarebbe una strategia. Mi sono dilungato un pochino sull'oro proprio perché è estremamente importante come benchmark di mercato. Doppio minimo sull'argento, tentativo di rimbalzo e rialzo sopra i 22 dollari, l'area chiave che ormai l'abbiamo segnata e la manteniamo come livello di trading range. Vedete come appunto 22 dollari di supporto e 28 dollari di resistenza circa 29 dollari tendono ad ingabbiare ancora il prezzo dell'argento. Prezzo dell'argento che in qualche modo non riesce anche 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 l'argento non riesce a trovare una giusta collocazione per quanto riguarda appunto l'eventuale trend rialzista. Siamo sotto la media mobile a 200 periodi quindi grande grandissima attenzione su questo doppio minimo e vedremo come reagirà al mercato. Platino e palladio, platino praticamente come sempre osserviamo identico all'argento quindi diciamo che sostanzialmente ecco la situazione va a stabilizzarsi intorno al livello di supporto a 900 dollari. Per oncia sotto abbiamo 8,60-8,50 la tendenza la vediamo insomma abbastanza ancora in difficoltà. Vendite auto naturalmente dove vengono utilizzati platino e palladio in forte ribasso e quindi ecco la domanda. La domanda risulta abbastanza tenue tra i due probabilmente si ipotizza che insomma che il platino potrebbe avere maggiori eventualmente possibilità di crescita. Però naturalmente consiglio sempre piuttosto di diciamo di fare investimenti sulla situazione di un prezzo basso magari cercare di entrare a breakout di un livello di resistenza. La zona dei 1500 toccata, 1520 toccata dal palladio la dice lunga ovvero vedete abbiamo indicato ancora in precedenza appunto come c'è questa ci sia questa divergenza netta dei prezzi ancora di più esacerbata ed esagerata con la discesa proprio a toccare questo livello di supporto di grandissima importanza. Tant'è vero che appunto ce lo segnaliamo lì in orizzontale eccolo qui quindi ecco i due livelli i due livelli chiave monitoriamo appunto 1500 1900 e oltre i 2200 dollari e naturalmente nel mezzo ci sta il valore psicologico 2000 dollari per oncia. Quindi attenzione naturalmente per entrambi avevamo visto che il palladio è sceso molto insomma dai massimi vicino ai 3000 dollari è più o meglio è meno a sconto è meno a premio rispetto all'oro circa un grosso modo un 200 dollari di 100 dollari di differenza 120 dollari di differenza in questo momento da oltre invece prima era molto molto più a premio e quindi insomma anche in questi casi qua la situazione la dice lunga. Tutto naturalmente ruota intorno alla situazione della variante Omicron e soprattutto alla diminuzione dei viaggi aerei e questo naturalmente ci porta a parlare immediatamente di che cosa? Del petrolio che proprio nella giornata odierna abbiamo visto una forte un forte deflusso un forte un'apertura in gap down prima addirittura abbiamo visto mercati asiatici con perdite addirittura per quanto riguarda il petrolio oltre il 5% e quindi da questo punto di vista insomma grande attenzione nella giornata di oggi proprio di questa diminuzione del petrolio. Per noi che facciamo questa analisi ogni settimana naturalmente avevamo indicato come la situazione non fosse per nulla rialzista e quindi ecco il pullback dal punto di vista ribassista per quanto riguarda appunto la tendenza, vedete appunto la tendenza ribassista della trendline ribassista e quindi ecco da questo punto di vista in qualche modo non siamo stati sorpresi avevamo messo un livello di vendita in attesa lì sotto e quindi abbiamo siamo entrati in posizione. Per quanto riguarda la stessa cosa insomma per quanto riguarda le difficoltà Ah un'altra cosa ricordiamoci attenzione perché non diciamo ancora per la situazione ribassista per quanto riguarda il petrolio naturalmente ci sono tante difficoltà addirittura il prezzo del Brent, non il crude oil ma il Brent ha toccato è andato addirittura sotto i 70 dollari in un po' il valore chiave e addirittura la contrattualistica futures si è spostata in contango ovvero i prezzi spot rispetto ai prezzi futures sono più bassi cosa diciamo tra virgolette rara nei mercati energetici e questa la dice lunga anche per il fatto che appunto il prossimo anno ovvero fra qualche settimana almeno il primo semestre se non il primo trimestre diciamo avrà, vedrà, vivrà una situazione di surplus produttivo e dovremo anche vedere appunto come andranno gli accordi sul nucleare iraniano perché appunto questa sarà un po' la situazione che dovremo monitorare tra le altre cose situazione del gas veramente disagiata per quanto riguarda il contesto europeo un po' meno per quanto riguarda invece il mercato tradato il natural gas dove appunto le scorte non, o meglio ancora la produzione non fa più, non crea più timori in Europa c'è una situazione totalmente opposta e diciamo ci auguriamo tutti che magari rientri questa situazione perché metterebbe sotto pressione tutti quanti, tutto insomma il consumatore finale e quindi anche per i prezzi dell'energia del riscaldamento, insomma un po' per tutto quanto, sui trasporti ci sarebbe tutta una situazione di crescita di catena di crescita. In ogni caso per quanto riguarda il natural gas la diminuzione, la persistenza, la permanenza al di sotto della media a 200 periodi sotto il livello chiave dei 4 dollari per milione di BTU insomma ci indicherebbe una possibile eventuale ulteriore debolezza tranne una motivazione di rimbalzo naturalmente sia un livello di supporto estremamente importante, 3,50 l'abbiamo vissuto anche in precedenza quindi dai 3,30 ai 3,50 livelli chiave di supporto quindi eventualmente ecco una frenata alla discesa per quanto riguarda il natural gas, attenzione perché le posizioni lunghe al momento diciamo poi ci avviciniamo alla primavera dove tendenzialmente il mercato del gas normalmente tenderebbe un pochino più a vedete come ad esempio lo scorso, cioè lo stesso periodo dello scorso anno vedete come a febbraio abbia cominciato questa diminuzione di volatilità e anche di quotazioni anche se la situazione era notevolmente diversa quindi attenzione a quelli che sono le posizioni velocemente sul rame diciamo c'è poco da dire dal punto di vista tecnico non si muove 9500 dollari per tonnellata non sono un grande o meglio sono un grande scoglio non diciamo non continua a tergiversare rimane all'interno di questo canale ribassista e quindi monitoriamo come livello di resistenza 9630 mentre livello di supporto 8900 dollari quindi circa un 700 dollari di distanza tra i due prezzi quindi l'LME il mercato fisico del rame dei metalli a Londra continua a lavorare appunto sulla eventuale difficoltà le scorte rimangono basse anche se la Cina ha indicato come appunto ci siano ha indicato come rilascerà parte delle sue scorte però insomma al momento non ci sono grandi novità anche perché dal punto di vista dei produttori cileni sembrerebbe insomma che potrebbero avere difficoltà con il governo per quanto riguarda la tassazione nickel che ha rotto a ribasso l'area dei 19784 dollari è andato a toccare il supporto lo vedete come l'avevamo indicato ancora in precedenza basta vedere tranquillamente le precedenti analisi i precedenti video anche perché noi indichiamo sempre appunto la nostra operatività la facciamo vedere quindi non diciamo nulla di nuovo di inventato manteniamo le nostre analisi quindi si possono andare benissimo a vedere anche nei video precedenti anzi vi invito ad andarla a vedere quindi supporto e rimbalzo in questo momento del nickel anche se il nickel è un mercato estremamente volatile utilizzato nel settore veicolare elettrico 19.150 il valore di supporto in crescita della trend line in crescita appunto l'avevamo segnata quindi la manteniamo ancora tendenza di una formazione triangolare rialzista a spinto al ribasso bene andiamo a vedere gli agricoli invece che partiamo proprio invece facciamo la carrellata contraria al wheat che diciamo sostanzialmente ha visto una perdita di forza nel momento in cui c'è stata la debolezza al di sotto dei 800 dollari avevamo indicato come eventuale target questa l'ampiezza del triangolo di questo triangolo diciamo l'ampiezza di questo triangolo effettivamente quasi la raggiunta naturalmente comunque essendo entrati in breakout a 7.69 abbiamo avuto un grande gain e naturalmente abbiamo portato alzato materialmente lo stop loss secondo le nostre secondo le nostre regole attenzione perché appunto qui c'è un livello di supporto importante vedremo un pochino ecco questa è la zona di grande interesse per quanto riguarda il wheat 7.80 per quanto riguarda appunto il livello di resistenza nel più breve tempo vedete come è stato un po' rimbalzato è stato respinto al ribasso siamo ancora in una situazione dove potrebbe scendere 42 punti l'RSI quindi ci potrebbe essere ancora spazio di discesa nonostante diciamo la tendenza la vedete nel lungo periodo ve la segno qui appunto nel più lungo periodo appunto ci sia questa comunque tendenza in qualche modo ad essere ottimisti in questo mercato un po' meno per quanto riguarda il corn un po' meno per quanto riguarda il corn la Cina è sempre protagonista in questa situazione degli agricoli il corn e il wheat diciamo sostanzialmente entra in gioco la Russia, la Francia, l'Europa come produttori di questi prodotti qua per quanto riguarda appunto invece questo il corn avevamo visto come la tendenza al triangolo ribassista adesso lo possiamo anche cancellare eventualmente stiamo comunque saremmo entrati intorno ai 5.42 adesso abbiamo lo stop in profit quindi naturalmente stiamo seguendo sul valore della media di 5.79 quindi abbiamo al momento circa un 8.20 di gain cancelliamo naturalmente i vari disegni manteniamo i livelli di supporto i supporti principali sono a 5.63 in questo momento la tendenza sta faticando molto naturalmente perché appunto siamo sopra la media mobile a 200 periodi un incrocio relativamente interessante della media a 21 periodi molto basso però ecco attenzione al livello di resistenza vicinissimo in questo caso qui che è proprio intorno ai 600 dollari 5.95 soia che invece non riesce a trovare una giusta dimensione nel mercato rimane sostanzialmente ferma bisognerà vedere i consumi diciamo i consumi da parte della Cina la soia viene molto utilizzata appunto in questo mercato e quindi ecco che questo ci potrebbe portare a pensare diciamo sostanzialmente al mercato la soia è visto in leggero surplus la domanda leggermente inferiore siamo sotto la media mobile a 200 periodi quindi diciamo che per la soia dopo aver raggiunto ancora i precedenti massimi aveva corso tantissimo dallo scorso dall'agosto dello scorso anno raggiunto i 1600 oggi siamo circa un siamo circa un 400 100 dollari sotto di distanza quindi 1200 1286 il primo livello di resistenza per quanto riguarda lo sugar grande fermento soprattutto contro le decisioni insomma la sottapresa delle decisioni e ritorniamo un po' indietro negli anni l'India aveva dato delle sovvenzioni aiuti statali vietati in qualche modo dal commercio internazionale ed è stata aiuti appunto ai coltivatori di zucchero l'India è uno dei principali coltivatori di zucchero sembrerebbe insomma dover pagare pagare questa questi aiuti dovrebbe pagare l'India naturalmente la situazione non sarà di facile soluzione in ogni caso ecco vediamo come alti prezzi dell'etanolo e appunto questa situazione sapete che appunto la barbabietola da zucchero viene utilizzata nella produzione sia di zucchero che di etanolo quindi alti prezzi dell'etanolo naturalmente fanno sì che venga switchata appunto la produzione livello di supporto 1888 siamo leggermente sotto le scadenze appunto si protraggono nel 2022 per quanto riguarda i futures e da questo punto di vista il trading range che abbiamo vissuto dall'agosto di quest'anno sembrerebbe in qualche modo in piccolissima parte oggi aver ceduto quindi dovremmo andare a monitorare il test della zona dei 18 e 21 dollari zona appunto della media mobile a 200 periodi per quanto riguarda il cotone invece la situazione sembrerebbe abbastanza simile anche in questo caso subentra l'India come uno dei principali produttori naturalmente non soltanto l'India il cotone viene utilizzato un po' in tutto il mondo diminuzione della domanda avevamo visto un triangolo una fase triangolare ribassista e quindi c'è stata siamo ritornati con una decisione breakout ribassista l'avevamo indicato appunto ancora una volta ricordo di andare a vedere i precedenti video 114 livello di supporto 103 dove è rimbalzato adesso sta facendo i conti con la media 21 che ha avuto questa inclinazione proprio ribassista monitoriamo 103 il valore chiave di supporto sembrerebbe diciamo sembrerebbe al momento voler rimanere in questa situazione di incertezza di indecisione il prezzo dello zucchero vedremo vedremo come si comporterà e la stessa cosa diciamo una figura di triangolo in espansione in qualche modo sul caffè che dopo aver lottato dopo aver diciamo dopo essere stati preoccupati per la situazione delle coltivazioni in Brasile il caffè ha creato delle delle situazioni una situazione di prezzi in crescita quindi un possibile deficit prezzi 250 250 dollari per libra del caffè respingimento di questa linea di tendenza in virtù anche di una zona di iper venduto ipercomprato e al momento insomma sembrerebbe voler andare a testare questa questa livello di resistenza e soprattutto ancora questo livello di scusate questo livello di supporto e questo secondo livello di supporto che naturalmente una volta rotto diventerà resistenza però vedete come lo spazio è estremamente basso cosa potrebbe succedere potrebbe succedere che appunto il prezzo potrebbe in qualche modo la rottura di questo secondo livello di supporto potrebbe far crollare le quotazioni 2,14 dove troviamo questo valore di supporto concludiamo con il cacao il nostro cacao il nostro beniamato cacao la cioccolata i cioccolatini grande l'interesse in questa in questo momento soprattutto nelle economie occidentali dove ci sono le festività al di là delle festività natalizie insomma c'è un periodo di festività insomma il cioccolato viene regalato con con grande con grande interesse quindi la domanda naturalmente potrebbe essere stata che certamente ecco questa non oggi ma certamente ecco la fase estiva che abbiamo visto dove abbiamo visto le quotazioni cresce naturalmente determinata dalla forte domanda che ci sarebbe stata prevista appunto per quanto riguarda l'occasione dei regali natalizi quindi diciamo che quello che vediamo in questo momento è l'ampliamento diciamo un triangolo in espansione e soprattutto vediamo sempre manteniamo i livelli di fibonacci soprattutto la cosa importante che cerchiamo di tracciare questo percorso insomma in qualche modo vedete un broadening una specie di megafono anche se non è proprio così il megafono però lo utilizziamo in questa situazione e questo ci indicherebbe ecco un percorso ancora di debolezza per quanto riguarda il cacao almeno fino al supermento dei 2550 dollari bene io vi ringrazio per questa per l'attenzione i temi sono tantissimi sul tavolo per il prossimo anno naturalmente tassi di interesse consumi del petrolio il rame la transizione verde il natural gas le economie sviluppate che cercano di diciamo di diventare più autonome per quanto riguarda l'approvvigionamento la produzione di agricoli questo ci porterà appunto a grandi passi nel nuovo anno nel 2022 e monitoreremo appunto tutte queste fasi del mercato sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fondamentale con l'occasione vi auguro buone vacanze buone feste cerchiamo di speriamo di poter passare un periodo tranquillo e ci risentiamo per il prossimo video grazie a tutti un caro saluto da Carlo Vallotto ciao